In Motorsport in questo posto speciale dove Davide si fa la storia della Formula 1 hai la sensazione che siamo anche noi all'interno della storia della Formula 1 perché fra tanti anni me l'ha ricordato questo come il primo gran premio? Sì, ho la sensazione che siamo in un posto bellissimo ma dal punto di vista dei piloti, che mi immergo sempre nella testa dei piloti siamo davanti anche a una sfida complicatissima perché per creare questo show fenomenale hanno dovuto creare un tracciato che è veramente complicato e questo ha praticamente reso la vita difficilissima a tutti i piloti e chi ne sono usciti i vincitori? ieri Ferrari ma soprattutto le tre con questa pole Sainz, Vestamp, Vestamp, Vestamp brava, abbiamo proprio percepito oggi è stata la mia giornata di talento e di velocità perciò dico che oggi sarà un'altra sfida dura perché guarda quanto fa caldo, è complicato molto complicato, tutto complicato qui facciamo così, riposiamoci qualche istante, calmo al secchi e ci guardiamo nei lights quello che è successo nella qualifica di ieri pole position per Charlotte, di fianco a lui Carlo Sainz e poi dietro le due ragù grazie a tutti i nostri inscrizi.